Prima di ogni allenamento una cosa molto importante da fare sempre è riscaldarsi e allora fatelo per 15 minuti potete scegliere tra la corda dei jumping jack oppure con la corsa a ginocchia alte Oggi eseguiremo un workout per braccia e pettorali ma soprattutto per i tricipiti perché faremo dei dip è più facile da dirsi che da farsi seguite me dovete appoggiarvi schiena bella dritta e faremo questo esercizio insieme per 30 secondi Grazie a tutti! Oggi abbiamo finito, beh mi raccomando non mollate noi ci vediamo al prossimo esercizio!